Ma come si fanno le scene di parto nei film? Beh, in realtà ragazzi, non è poi così complicato Infatti se ci pensate, la parte del corpo fondamentale per questo tipo di eventi è off-limits al cinema, non si può proprio inquadrare Quindi quello che succede lì sotto non è un problema per il regista o per gli effetti speciali Sarà sempre coperto da un lenzuolo, da chi sta estraendo il bambino o da un posizionamento di camera particolare Il bambino prodotto di solito è un pupazzo oppure un bimbo nato da appena 14-30 giorni che viene imbevuto in sangue ovviamente finto E un'attrice urlante dotata di pancione pinto in silicone farà tutto il resto Il problema di queste scene però è che di solito sono stereotipatissime lontanissime dalla realtà, esagerate A quanto dicono le ostetriche, perché io non ne voglio sapere nulla, lungi da me che paura Le scene di parto più efficaci infatti sono quelle che avvengono in situazioni particolari oppure che aggiungono elementi di veridicità al tutto